Ciao, mi chiamo Francesco Sanapo e sono un torrefattore, un piccolo torrefattore di nuova generazione. Mi considero un artigiano moderno perché comunque faccio tutto quello che un artigiano dovrebbe fare, però con innovazione. Innovazione che è quella che poi mi ha permesso, la ricerca dell'innovazione mi ha permesso di conoscere Cropster. E Cropster mi aiuta tutti i giorni a servire una tazza sempre precisa, sempre con consistenza, nella qualità e nel gusto della tazza di caffè. Oggi siamo qui in questa fiera, abbiamo partecipato anche come ditta artigianale nel World Barista Championship, supportando Chavrot Malaval, che è una delle finaliste del campionato mondiale baristi, usando il nostro caffè. e siamo riusciti ad estrarre il miglior profilo di tostatura e poi mantenerlo sempre costante proprio grazie a Cropster. Quindi mi sento di dire grazie ai ragazzi di Cropster, a Andy e a tutti gli altri perché sono sempre pronti ad aiutare, sono sempre pronti a rispondere e ad essere di grande aiuto per ottenere il miglior risultato poi in tazza. Quindi grazie Cropster e let's do it!